tutto è grazia di maria ricordava spesso san luigi orione e oggi giovedì 11 marzo quarto giorno dell'assemblea generale le partecipanti hanno vissuto dalle 12 e 30 alle 14 e 30 un emozionante pellegrinaggio virtuale a lei dedicato le province e le vice delegazioni hanno presentato a turno in collegamento l'immagine della madonna protettrice delle rispettive nazioni accompagnandola con un breve racconto della storia delle varie immagini con un canto e una preghiera il consiglio generale ha presentato l'icona della visitazione indicata da papa francesco nel corso del dodicesimo capitolo generale dalle 14 e 45 alle 15 e 30 la giornata è proseguita con ascolto dei due ambiti non ancora presentati nei giorni scorsi seguito dalle domande dal consenso dell'assemblea madre maria mabelle ha quindi dato indicazioni per i lavori di gruppo incentrati sul discernimento delle proposte concrete da elaborare in sintonia con le difficoltà e le sfide approvate dall'assemblea e con quanto è stato suggerito ieri dalle relazioni degli invitati i lavori hanno impegnato le suori assembleari dalle 16 e 30 fino alla conclusione di questa quarta giornata alle ore 19 e 30 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti